La Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro vive e progredisce grazie alla generosità di privati, associazioni, imprese e istituzioni. Per questo motivo l'adesione da parte del Consiglio regionale del Piemonte alla nostra campagna Life is Pink è un stimolo a fare sempre meglio e assume un valore significativo soprattutto in questi giorni. La campagna Life is Pink è giunta alla sua terza edizione e nel corso di questi anni ha permesso di raccogliere importanti fondi da destinare all'acquisto di macchinari di ultima generazione, a realizzare visite oncologiche contro il tumore alla mammella e siamo convinti che anche questa edizione possa mettere a disposizione dei nostri sostenitori, dei nostri pazienti, importanti risorse per curare sempre più persone e farlo sempre meglio.